La ZLA è una malattia neurodegenerativa. La persona che ne è colpita perde la capacità di mangiare, giocare, camminare. Vivere come fai tu. Finora queste persone stanno giocando la loro partita senza un pallone e noi ti fiamo per loro. E tu, che cosa intendi fare? Adesso tocca a te. La ZLA è una malattia, una malattia, una malattia, una malattia, una malattia. La ZLA è una malattia.